Mercoledì 18 luglio alle ore 17 vi invitiamo a una commissione antimafia aperta a tutti per ricordare Paolo Borsellino nel 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Saremo al 31esimo piano del Pirellone, al piano Belvedere e nell'occasione sarà anche presentata una ricerca universitaria sul fenomeno mafioso in Lombardia. Dunque ci piacerebbe che fossimo presenti in tanti è un momento importante a cui il Consiglio regionale tiene. Siete tutti invitati.